Musica Premio Drift 2015 Trike Softbox a Ingria, com'è nata? Sì, è nata da una scommessa, da un'idea per portare appunto gente pubblica nel nostro paese, sappiamo che adesso va molto in voga, è una competizione che insomma ci sono tante gare in giro non solo per il Piemonte ma anche in tutta la penisola diciamo così e infatti devo dire che la partecipazione è andata benissimo perché abbiamo avuto più di 50 partecipanti se non sbaglio e sono tutti per ora contenti, si stanno divertendo quindi per noi l'importante è che chi viene a Ingria stia bene con un sorriso insomma. Mezzi particolari, uno diverso dall'altro? Sì, tutti diversi, si va dei trike che a noi a volte ci piace definire come dei tricicli da competizione e poi ci sono i caretti con i cuscinetti quindi è un revival di gare che venivano fatte già tantissimi anni fa, addirittura nel dopoguerra anche prima e poi anche i caretti gommati quindi ne abbiamo di tutti i colori. Percorso non semplice, qualcuno ha obiettato anche pieno di scicanti? Pieno di scicanti, abbiamo cercato di metterlo più in sicurezza possibile perché ovviamente siamo in montagna, le discese sono importanti quindi tenevamo non solo il divertimento dei gareggianti ma anche la loro sicurezza. Prossimo evento ad Ingria? Prossimo evento ad Ingria è il Wustock Festival che quest'anno durerà due giorni quindi vi aspettiamo a Ingria il 19 e il 20 giugno per due serate a tutto Rocca. Prossimo evento ad Ingria. Prossimo evento ad Ingria.